scappa almeno non va a correre bella ragazzi sono GK01 e eccoci in un nuovo incredibile episodio di questa serie sempre accompagnati xalex brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Okay e io sto cercando di venire però corro con un edit tec taglio ho pensato a piegare tutto io vado avanti si vai no non andò là però oddio dove stai? vai che cazzo eh t'ho salvato t'ho salvato c'ho ancora vieni da me almeno ti aiuto non scappare vieni dove vai ho qua ho fatto il giro della casa eh bravo dove stai? ecco io e con me quanti cuori c'hai? uno ti ai ok raga tu già sei forse diamante forse ero tra un po' odia la spada eh io le apri i cesso odia ok raga oh dai io ho trovato la catana e non me ne ero che sta curando o ti è guarda che ti do lo sta è sparito ah sta qua te vedevo già te te ne devi prezzo dai vedi o so fu ferro ti è qua tieni mette da pure 5 frecce ti è c'hai il caschetto? eh te ho dato in oro ok o quanti troppo vuoi? eh tutti i caschetti che servono a te o diciamo una la uccidiamo? dove non vedo ah è quello di prima che te stavo no io ho un cuore ancora eh non mi sa quanti c'hai la fame piena? no c'è me ne ho trovato ti è a mangiare mele sei 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 mangio tutto e grazie che non ti aumenta madorica guarda oh ho visto delle fonte in davanti mi hai fatto cascate hai recuperato un po' oh guarda quanto rapo c'è dentro io come lo dici cosa? non ti ho scelto non l'ho nemmeno aperta sono me ne piave le cose no? è solo che sto kill a 1 che fa? è morto che ti serve per diventare full fair? chiede donna il metto? è l'elmo è l'elmo eh se vieni tu ok rica ah ragazzi voglio salutare i due amici miei Piet e Moeno tu sono due froci della merda e chi è sto Piet e Moeno? che è un messigano è tu zio no no ma mi zio si chiama tu ah no allora è tu sorella sei l'infano sei una merda ti serve un acciarino? si no ho buttato la spada ma non c'ho niente per combattere no no guarda guarda che ho fatto io ma tutto il gioco dai ho spento il fuoco ma lo prendo io oh ho preso della merda ok liscio vabbè se ti sposto chi è? sai però ti serve un acciarino? si chi è? ok rica andiamo saluto questi due amici miei Piet e Moeno si si che cazzo di riti e poi? e poi se un pezzo di merda ma no come cacchi si chiama quello? pieto e ma pieto e moeno un po' più due come si chiama? pieto e moeno ma chi? è amico tu pieto e moeno che è un pieto e un po' meno dammi il cibo va ma tu sorella mi vuole lanciarmi la tua tieni eeeh eeeh uuuu mi ce la vi peri c'hai uno stick piccolo? eh non ce la vabbè allora ti faccio il spolo del culo scherzare non ce la son dietro ma dove quanto sei nobu? scappa almeno non me fa correre ahahahahahahahaha che dio ahahah che da no che da che stato che rinzia delle bruce ahahah a mi ha stato sottomani militari ahahah non me fa correre ahahah scella troppo quella ah io ho preso il moro di tutti i denti mai magari li uccido Magari Ma che sei morto? No, 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 sto disegnando Ah, fatti la cazzo Dio, ma che è l'aga? Oh, sta fermo davvero Si, sta fermo Cioè, ma sta fermo Dai, no, non capisco Se è un lago o se sta fermo Oddio Magari ti uccido Oddio Vabbè Vabbè, raga, questo non muore Eh Basta Quanti pari Io ho quasi tutti, raga No, la scena di Ale Che tipo non gli correva era troppo Bella Porco schifo No, si è vista troppa scena tua Oh, a 24 trecce Qualche segnettini E non le dole Ciammele, ciammele Sì, una Oddio Regama non muore Quante mele sei, ciao Adesso, uh C'ha una pozione di velocità e c'ha Un Va bene, che capo Ha sei pozioni di guarigione No, ecco C'è una se Ecco, non muore più veloce Ecco perché Ecco perché Sì, una diete di te E fa bene Oh, chicco Ma va lo uccido scontro diretto Ma che scontro diretto Ha, gli ho fatto sedi sopra la cosa Che borgia ho fatto Mi sono una carcera a me Scusate Oddio Oddio Cosa Non muore, non muore Oddio come io Non muore Oddio 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 Guarda le frecce che gli ho tirato, regà Oddio Oddio Cioè Il mio mappo non posso fare Ok, ne rimangono quattro No, no Adesso ho quattro Adesso ho quattro A me questo mi ha soffato tutte queste emozioni Non c'è niente Ma io qualche colpo di freccia Abbraccio Qualche colpo di freccia Qualche colpo di freccia Non è che sono Legolas Ok, ora c'è da tre Ok, ora c'è da tre De che? Poi c'è da Ah E stanno finiti, me stanno seguiti No Si, si, si Sta scherzando Oddio 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 Vedo Ecco Ho bevuto Ma che beve? Non si sa la roba che c'ha Ecco Io ho finito tutte le mie armi Lui ha finito la pozione Cioè ce n'ha una Eh beh, una, io ce n'ho mezza Davvero? No, ce n'ho mezza Come faccio? Ti vai dire l'acciarino Sì, io tiro l'acciarino No, no, no Tirogli qualcosa, fai tim, tim Ha vinto, dagli Jake ha vinto Ok ragazzi, eccoci qua Il video può anche finire qua Lo carico lo stesso perché E' stata una bella partita Un bel pvp, infatti c'è quasi tutto il video E' quel pvp Alex lo saluto io da parte sua Perché sono andato a cagare, perciò non ce sta Ok, noi ci vediamo In un prossimo video Spero vi sia piaciuto, bella Ciao! Ciao